Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda questi 148 deputati che eletti con il premio di maggioranza dovrebbero, secondo Beppe Grillo, anche oggi sul suo blog, andare tutti a casa. E allora sentiamo il capogruppo alla Camera Villarosa. Dopo l'indicazione della Corte Costituzionale a chiedere immediatamente la calendarizzazione di una proposta di legge elettorale. Il Mattarellum è l'ultima legge elettorale fatta da un Parlamento legittimo. Noi in questo momento, che se ne dica, siamo illegittimi qua dentro.